Ciao a tutti, potrebbe esservi capitato di sentire qualche giocatore più esperto della mod roleplay 5M di GTA V dirvi pulisci la cache. In effetti quando alcuni glitch, perdita di texture e crash continui rovinano la vostra esperienza di gioco su 5M, una delle soluzioni più rapide è quella di andare a pulire appunto questa cartella. Ma vediamo come riuscire a farlo in pochi e semplici passaggi. Come prima cosa individuate l'icona di 5M, poi cliccate col tasto destro e andate sulla voce apri percorso file. In questa maniera vi aprirà dove si trova appunto installato 5M. Ora cliccate su 5M application data. Ora individuate le tre cartelle che vengono nominate cache, server cache e server cache priv. Queste tre cartelle vanno ripulite ma non pulite la cartella. Quindi eliminate questa cartella, entrate dentro per esempio la cartella cache e eliminate tutto quello che c'è dentro. Quindi selezionate tutti i file e poi fate elimina. A questo punto basta ripetere la stessa operazione per le altre due cartelle nominate cache. Quindi entrate dentro, cancellate tutti i file che sono al loro interno lasciando però la cartella madre e andate a fare anche la cartella poi priv. Questa è leggermente più piena come potete notare e vanno cancellati tutti i file. Ora non dobbiamo fare altro che riavviare normalmente 5M, selezionare il server dove stavamo giocando e andare di nuovo magari a riscaricare le varie modes. Vedete parte e fa un download. A questo punto una volta che avrà terminato potremo entrare ma la nostra cache sarà completamente ripulita. Vi consiglio di farlo spesso questo lavoro in modo da non avere alcun problema. Ora vediamo come andare a utilizzare, far funzionare al meglio il nostro audio all'interno di 5M. Una volta entrati all'interno del gioco dobbiamo fare tasto ESC e poi cliccare su impostazioni. A questo punto andiamo a cercare la chat vocale. Allora come potete vedere dobbiamo andare ad attivare la prima voce SI, poi qui dobbiamo andare a inserire i nostri autoparlanti. Poi mettete tutte le voci al massimo come potete vedere qui nella schermata, volume SI e dobbiamo anche selezionare il nome del nostro microfono. Mi raccomando mettete quello giusto altrimenti non funzionerà. Poi premi per parlare, il tasto di default ELN e poi tutti i volumi al massimo. Ora andiamo a vedere l'audio, per quanto riguarda l'audio io direi di sistemarlo al potenziamento voci al massimo in modo da poter sentire anche gli altri giocatori. E qui io ho inserito le cuffie perché sento in cuffia. Se avete ancora dei problemi ragazzi probabilmente avete dato male i nomi dei vostri apparecchi. Quindi controllate bene come si chiamano e inserite i nomi sia degli speaker sia del vostro microfono. Se avete delle domande fatemi qui sotto nei commenti. Ciao a tutti e alla prossima!